bella a tutti Ultimankamers, io sono Joestar e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi siamo su Rainbow Six Siege insieme al Ken, in compagnia del Kenney saluta ciao a tutti allora vediamo vediamo c'è andata nato ho paura c'è perché stanno a sparare l'impazzità ai droni ma do quanti ti risparmi i droni è vero 2 3 ok no niente con l'altro volevo piazzar bagno allora sto così sto por a merda al secondo c'è l'ha abbandonato c'hanno il grazzo porca troia porca troia ma vaffanculo che ho scritto premi alle 1 per rilanciare la granata ho cliccato alle 1 ma stavo a tirerci i 4 ma sarei stronzo che male gli occhi ma questo è il nuovo operatore vedete quello con il yokai mi sembra più una nuova mezza una specie di gioia mi sembra che io mi è piaciuto che niente non l'ho piazzata ma è costaggio? no mi sembra che c'è stato fisso ma fatti vedere è durissimo quelle 3 staccia tua dovevano essere venite eh 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 ecco è l'ultimo eh indica io le stalla mmm mammi c'era un po' via guarda che è salito sul tetto sai ah gli stavano a sparare a loro dal lato tutte 5 mila e? e la e? si imbale? l'usorella stanno guarda calcola stanno guarda tutte le finestre e tutti i punti di questo potrebbe calare l'unico punto cieco che non vedono è ok niente che l'hanno preso? no quello là di te no mamma che volo che ha fatto contenitore di più di più individuato raggiungetelo ma non è in funzione eh cazzo carità è che sta qualcuno fuori potete trarci quattro sui denti vabbè ho tirato ho tirato la fumace se lo copro nooo dai ma c'è sto thacher un'ora e mezzo all'anno gli hanno sparato lo so facciato io ma hanno sparato non saranno strozzi che dite? voi che ne pensate? saranno strozzi o no? no cosa più bella guardate il tennis che si è dovuto allontanare sta nel bagno sta c'è un modo che voglio ah questo che mi hai detto il round se stava un cazzo minchia vengono lì proprio testa si non serviamo a niente noi si io te e smugio non serviamo quasi a nulla tu cos'è sta roba? che roba? che ho fatto esplodere? ste matti valkyria ha fatto esplodere valkyria ha fatto esplodere eh ho capito ma calmatevi no 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 se non volevano che riparavi e vabbè che cazzi capisci accortellate hanno buttato giù tutto hanno buttato giù tutto hanno buttato giù tutto sono pazzi di questi 5 secondi voglio fare un round a buttato giù tutto? si non so non è nemico è indirizzo per conti non è nemico è indirizzo per conti non è nemico è indirizzo per conti se ti vuole i muri a che cazzo servono? lì l'ultima volta avuto orca puttana the lage ah lì mi dispiace ma ci abbandoni all'interno non è nascita il bianco all'interno non vincita lì bianco lì bianco tutta lì bianco il pò d'acspittano si non vincita di alcuni lì si che di No, no, no. divisa faccia la quattro questa l'ultimo stile sparata fuori sta fuori l'ultimo dove sta? fuori dalla porta portacci tiè, vedete pure il C4 così a gratis come l'ho trovato? eeeh sono sceso giù nelle scale c'erano delle piccole scalette lì che non aveva mai visto nessuno allora ragazzi come stai vedendo questa partita ci stiamo facendo carriare male e noi non stiamo giocando ciao pulse ok ma mi ha detto proprio ti regalo una kill questa mi sa teme un amico rilevato all'esterno che mi sta qua da me? Vabbè dai ho ripreso un pochetto Ho fatto due uccisioni Mi ho messo questo Questo un po' di suspense Tra me il scontro tra russi Ci sono le erbe un po' di tutti i colori Vedi blu, viola, rossi, verdi Ci sono tutti i colori Dai un po' tutto Allora ragazzi Eccoci qui Siamo in due perché stiamo facendo una partita privata di caccia terroristica a livello realistico Dato che il video durava poco Molto poco Il game ha finito molto velocemente Anche se ci hanno cariato male Andiamo che passiamo da qui Attento Intanto lo sai che vuol dire caccia terroristica a livello realistico no? Canne, canne esci, esci, scappa Allora Tiragli la granada Aspetta cercare di tirarlo Disattivo l'elettronica Dimmi se ti da qualcosa Ti do qualcosa? No, niente No È stato spaccato tutto Che cazzo sta succedendo? Oh, che ne sta qua fuori Cazzo C'ho 38 HP C'è difficilissimo realistico Eccetera Questi Porca troia Sta qua davanti alla porta Oh, vedi Vedi, è tutto blu No Ancora giù Ok, è andato Non c'è più granate Merda Oh, boh Mira Mira sta stanza di buco Qualcuno C4 No, no Era uscito uno Era uscito uno A cannone è uscito Ok Un attimo Da là giù Aspetta Attento Mi caccio pure io Cazzo Dalla scala Dalla scala Ok 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 Palo Palo Da piano e sopra Facciamosi da fuori Assolutamente Non c'è 26 nemici Ne uso Il modello Nello normale Sono 22 Maia 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 Porca troia C'è 7 HP Sì E' verso il mio Dai In piedi Si rompe una porta No Da dove La faccio da nulla Dove hai sparato te prima Porca troia Quanti Allora ragazzi Il video finisce qui Spero che vi piaccia Anche se Non abbiamo fatto molto Ha fatto più Termite Quello che usava Termite Ho visto Ha fatto tutto lui Tra un po' La caccia terroristi E' andata un pochino Mini Che è realistico E' difficilissima Come modalità Spero che il video vi piaccia Commentate E mettete mi piace Saluto a Kenny Ciao E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao